Passa su fifagoin.com e acquista i due crediti a prezzi bassissimi E con il codice Michael 5% di sconto, link in descrizione Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha La sfida di quest'uomo contro questo gioco è tornata Ragazzi non solo gli esseri umani attendevano tutti questa sfida Ma pure gli extraterrestri in un altro universo stanno tutti con le orecchie appizzate Per scoprire se Mike Shosha, colui che ha ridefinito la differenza tra gli uomini e i ragazzini Riuscirà a battere il record Oggi ragazzi proviamo a fare il 190, 191, 192 Il draft migliore possibile, come un tempo ragazzi Ho annusato l'ipotesi che possano aver messo tutte le Icon Prime Magari ci sono addirittura le moments nel draft Proviamo quindi a fare la draft challenge Per chi non sapesse in cosa consiste Vuol dire che non avete mai aperto un video di FIFA da qui a 4 anni In pratica ragazzi dobbiamo costruire la squadra Che abbia il valore totale più alto possibile Per farlo dobbiamo sì Prendere i giocatori più forti Con occhio particolare anche all'intesa È questo Quindi ragazzi mi preparo a spendere un sacco di FIFA Points Perché farò più 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 prove Ma non sarò io a montare questo video Quindi ragazzi supportate la grande questo video Perché è un grandissimo ritorno Negli anni ho veramente sfiorato la pazzia Per cercare di fare queste sfide Chissà sa, chissà sa Ma banda le ciance Iniziamo Vado ragazzi, vado Mando vado Ma no, ma che vuol dire No Tra l'altro me l'aveva pure i dati Ok il modulo Sono quelli lì ragazzi 4 del 3 4 del 3 5 Mamma mia no Allora io direi Offensivo Così ci prendiamo il C.O.C FIFA Fammelo far prima botta Così godo E via Dammi un capitano buono Ci stai mettendo 100 anni Non capisco il perché Allora ragazzi miei È chiaro che Dobbiamo prendere quello Con la valutazione più alta E qua c'è Però aspetta Però Icon Prime Prendiamoci Hernandez Neymar a sinistra Forza L'ho chiamato Oh No Vabbè però Sterling 90 Ci può stare Non so se c'è una versione Ancora più forte Non lo sapremo mai Vabbè dai 2.90 E siamo partiti bene A D Dammelo Veramente molto buono Puzzolente Vado di Marez Nella speranza che ci dia Ancora della Premier League Non è tutto Oro quel che luccica Forza Dai Ma questa fa schifo Iii Uuuu Ve l'ho detto ragazzi Che hanno messo Le Icon Ve l'ho detto Viera Prime Oddio questo lo voglio quasi giocare Se mi dai pure il fenomeno Uuuu Ve l'ho detto Ah raga ma che è Che è Che è Che succede Il signor sgozza maiali Andrei Allora il C.O.C Il C.O.C qua ragazzi Me lo deve da fortissimo Dammi un C.O.C fortissimo Me l'ha dato Me l'ha dato Me l'ha dato Peleno 98 Ah raga ma che sta succede Fermi Proviamo a farci le riserve intanto Giorgino best Pure Giorgi best Pure Giorgi best ragazzi Perché è la full icon La full icon Allora Raga Non possiamo sbagliare C'è abbiamo tutte le linee verdi Dai che Dai che ragazzi Il risultato è vicino Ma noi ce l'abbiamo Messi ci potrebbe essere Il Toti Ma non è detto Che ci uscirà Quindi ci prendiamo Messi Un altro 93 Mettilo in cascina O in questo caso Mettilo in panchina Difensore centrale Oh Ma che sta succede Ok Maldini Maldini 94 Ok Oh raga Cioè no Questo me lo devo giocare Per forza Mio Dio Altro difensore centrale A sto punto Che mi dai Vabbè Cioè ragazzi No vabbè Ferdinand Ma che cacchio di draft è È full icon È full icon Portiere Dammi Yashin E si gode Yashin E si gode Ma non ci posso credere No vabbè Non ci sto a credere Cioè nel senso Nel senso Ok sta sudando Cioè sono tutti Oltre il 90 Cioè paradossalmente Vabbè aspetta Vediamo chi c'è Come TD Vabbè raga Ehm Vabbè Deve essere full icon Non abbiamo capito Terzino sinistro Roberto Carlos Prime moments Più o meno Allora già così Stiamo al 192 Ci abbiamo ancora Tutta la panchina Adesso Dobbiamo solo Prendere i più forti Oh Lazzari Ehm Griezmann 89 Va bene Vai Ultimo Ronaldo Totti Rivaldone Rivaldone 92 Guarda come Come ma giusta Sta squadra Rivaldo Tutte Quasi tutte Quasi tutte No tutte linee verdi Ah no C'è Alessandro Mannaggia Mannaggia Guarda che squadra Mi sono fatto Cioè questo è da giocare Sto draft ragazzi Sto draft è da giocare Altro portiere Ma ragazzi Mi ha dato già tutto Mi ha dato già tutto Ma mi sta a tirare le buste Dai dammi consigli Griezmann siamo scesi Siamo scesi a 191 No fifa No Dai che devo far record No fifa Devo far record Lulic a 71 Ultimi due posti ragazzi Potrebbe essere qualsiasi Giocatore Però io comunque 191 Sono contento Si parte dal 191 Per andare sopra Oh fifa Vabbè me l'ha dato già a tutti Me l'ha dato già a tutti A Yosi Perez Siamo scesi a 191 Siamo scesi a 191 Vabbè però 191 fatto ragazzi 191 fatto Anzi volendo Vediamo se Mettendo in campo qualcuno Secondo me si può pure alzare Sta squadra No ma non si alza Vedete No non si alza ragazzi Porca vacca Che draft suntuoso comunque Ci prendiamo pure Gasperini No Gasperini no Eh però come sa Che tocca prendere Gasperini E mi prendo Giampiero Gasperini Giampiero Gasperini Raga ma questo è un draft Incredibile 191 A prima botta Con 10 icon Allora si gioca Allora si gioca A few moments later Datemi del pazzo Si Pazzo E basta Perché Cioè con quella squadra Dovevamo giocarcela Ma no Ho pensato Se a prima botta Abbiamo fatto 191 E se ci riprovassimo Non succederà Perché penso di aver usato Tutto il mio culo Per quella Per quella squadra Vediamo che succede Forza fifa Dammi un Modulo giusto Oh 343 in linea 352 pure 342 352 Te dirò Te dirò 352 ragazzi Perché abbiamo il COC 2 ATT E gli esterni 352 C'è provo C'è provo C'è provo Pelé Maradona Pelé Oddio Se riprende Pelé Ragazzi Se riprende Pelé Oddio È però 98 contro 97 Il COC Guardiola Guardiola 90 Ok raga Mi sa che abbiamo Ritriggerato le icon Zitto Mike Zitto Infatti Infatti Devi sta zitto Casemiro E D Infatti Devo sta zitto ragazzi Non devo parlare E S Ne marsitto 92 Mi piaci Allora Il TC deve essere Un fenomeno Mannaggia A me Poi Ah ma Me lo piglio Basta È deciso E sta andando Molto bene Poi È finita Molto Peter Smichel Vai Smichel L'ho messo lì Riserve ragazzi Aggiustiamo Sta squadra Madonna Sì 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 Mi prendo Alexander 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 Arnold Anche se Va fuori Intesa Va bene Così Mettilo là Mettilo là Vediamo se I difensori Ci possono Dà Una giustata Vabbè Skrignar Skrignar È sicuramente Meglio Desta busta Fuori L'altro difensore Dammi un todi Per favore Il TD Non mi serve Mi serve Il DC È in vantaggio Dei 6 Dei 6 Ok 95 Ecco L'abbiamo spostato 95 Non so perché Spostando l'ordine Degli addendi Il risultato Non cambia Eccoci 98 91 C'è stiamo Magari qua Mi dà Un altro portiere forte Non mi serve a niente Solo per i Pop Il Papa Dobbiamo fare un miracolo Ragazzi Dobbiamo fare un miracolo Ma la squadra in campo È forte Giusto qualche puntellamento Per la panchina Vai Ronaldo è il fenomeno Ti prego No ragazzi Se non ci riusciamo A meno che qua Non c'è Roberto Baggio Vieni qua Roberto Baggio Ok Ancora Ancora Non ci fermiamo Così man È l'ultimo ragazzi Un todi Mi servirebbe un todi Un todi come un palo E la D Non ce l'ho Quindi Bernardino 190 Aspetta Però posso Posso ancora Modificarla Eh ma i panchinari Sono scarsi I panchinari Sono alquanto scarsi Cioè Wesley Ho Non ce posso credere E così stiamo messi No ragazzi No 190 190 Ci siamo fermati A 190 190 A meno che Aspetta 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 A meno che Facciamo i pazzi Carletta Ancelotti No 190 Solo 7 icon Stavolta Mannaggia Ragazzi Ci riprovo Ci riprovo Ci riprovo Ci riprovo Ch educativo needs Min Sandy Ci riprovo 만든 Grazie per la visione!